Per me le onde giganti sono delle emozioni talmente forti che sono diventate la mia regione di vita. Quando si è su queste onde ci si ritrova a più per più con la forza bruta della matrimonica, una sensazione fortissima che diventa una sorta di dipendenza. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per me Preddo Norte Nazire è un posto molto speciale, è un posto dove ho provato emozioni molto forti, ho chiaro con il surf, body surf, bodyboard, kitesurf. Per me Preddo Norte Nazire è un posto di Preddo Norte Nazire è un posto di Preddo Norte Nazire. Per me Preddo Norte Nazire è un posto di Preddo Norte Nazire. Preddo Norte Nazire è un posto di Preddo Norte Nazire. Preddo Norte Nazire. Preddo Norte Nazire. Preddo Norte Nazire è un posto di Preddo Norte Nazire. Oh my God!